Vola sull'arine, vento che porta le note, incontro di note Proponetevi Gesù come pondus cordis, centro dell'amore, scopo di ogni intenzione Dice San Gaspare Bertoni negli esercizi spirituali al clero Guardate continuamente a lui come avvia Cercatelo come verità, amatelo come vita Accostatevi a lui, ma per lui come via Da lui succhiate la vena della verità e della sapienza Attingete l'acqua della vita, bevete, inebriatevi Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me